Ti stavo dicendo che loro il sabato e la domenica si riposano e subentrano le lunatiche Federica Elmi e Giodi Alivernini e arriveranno tra 20 minuti eccole, eccole, eccole vai Giodi, Giodi no nel senso bravi perché fate riposare quei due ragazzi sì, noi lo facciamo per loro, in realtà ci hanno chiamato proprio perché così loro il sabato e la domenica possono riposare ovviamente ci pagano di nascosto per questo, in realtà sono loro i nostri direttori ciao lunatici, bravi lunatici, grazie Fabrizio Pacifici, è un grande privilegio ricevere questo premio e grazie anche ai lunatici in realtà perché in tutti questi anni hanno preparato un terreno e gli ascoltatori della notte sono tantissimi, noi arriviamo il weekend il nostro spazio è incentrato anche molto sugli ospiti, ne abbiamo avuti tantissimi in questa stagione e ci siamo molto divertite, grazie, grazie a Rai Radio 2, grazie a Fabrizio Pacifici vi premierà il segretario dell'UGL, il dottor Muscarella eccolo segretario grazie, so che lei ha tanti impegni e è venuto a trovarci intanto grazie a voi per questo invito, per questa grandissima manifestazione e sono onorato di premiare due grandi professioniste, grazie a voi dottor Muscarella premia le lunatiche, grazie grazie grazie